Abbiamo deciso di parlare di religione, quindi più di un sentimento che di un argomento. In un momento storico così difficile di integrazione razziale, mi sembrava dopo e logico poter parlare di un argomento che è comune in realtà a tutti gli esseri umani, cioè la ricerca del divino, la ricerca del motivo della propria esistenza, che poi alla fine va sempre nella stessa direzione, al di là di come si chiami il nostro Dio. Scaramacai già dal 2005 si occupa di integrazione razziale, si occupa di messaggi sociali, per cui per me è veramente molto importante. Tra l'altro nella compagnia Scaramacai si sono succeduti vari elementi di varie nazionalità, quindi per noi è veramente fondamentale questo clima di condivisione e di apertura mentale nei confronti di ogni tipo di tradizione, costume e religione.